3, 2, 1, vai! 20, tornante sinistro chiude, accenno destro, cartello tornante destro, accenno destro, sinistra 4, gira apre e agli alberi destra 4 taglia, 30, sinistra 5, per destra 3 taglia molto, 30, tornante sinistro, accenno destro sconnesso, sinistra 5, 50, tornante destro, 70, accenno sinistro e destro e sinistro e al rail destra 6, tornante sinistro, 50, destra 4 più, in sinistra 5, in destra 4 lascia, 50, tornante destro, vai così, 20, sinistra 4, subito destra piena taglia, 80 pieni, per sinistra 4 tieni, in destra 4 gira tieni, in sinistra 3 gira, per destra 4, 30, sinistra 5 tieni, in destra 5 lascia, 50, destra 3 più, 50, sinistra 4 gira e al cartello destra 4 più, al cartello destra 4 più, in destra 6, per sinistra 5, e al birri sinistra 4 gira, 30, sinistra 6, in destra 5 lunga, in accenno sinistro e al cartello destra 4 più, accenno sinistro al cartello destra 4 più, 150, destra 6, destra 6 qua, 50, sinistra 3 gira, 50, destra 3 gira, in sinistra 3, in destra 3 tieni, sinistra 3 qua, destra 3 tieni, in sinistra 4 gira, per destra 5 taglia, 50, sinistra 5 piena, 50, sinistra 4 più, sinistra 4 più, 50, destra 6, e al cartello sinistra 4 più, e ai pali destra 4, in sinistra 5, 50, destra 4, per sinistra 4 diventa 5, fine prova, occhio alla macchina ferma, alla fine prova lo stop, grande!